bella a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati in un nuovo video sul mio canale Io sono Matteo, siamo a bordo della mia Honda Hornet 2008 Una fantastica motina E siamo nella periferia di Como E stiamo andando a prendere una mia cara amica Oggi abbiamo organizzato un giretto tranquillo sul lago di Como La strada è bella, bella, grande puffo l'abbiamo recuperato E qua dietro di me sto tremando come una foglia Si regge un botto Vabbè andiamoci cauti Adesso la direzione centro Como Al parcheggio di una delle ville più belle del lago E penso che ci vedremo direttamente all'incontro Quasi arrivati, appuntamento alle 2 Sono le 2.22 Fantastico Puoi scendere se vuoi Puoi scendere se vuoi Sto uccidendo una persona Ti è posto? Tranquillo, mi chiedi, c'era poi una rinca Davvero? Sì, alla fine Ciao Matteo, piacere, adesso mi tolgo tutto Matteo, piacere Ciao guru Piacere tuo No, adesso arrivo Adesso arrivo Vai Figa che caldo Sto morendo in giro È normale, è normale In moto è così Eh ma adesso vedrai che Che cosa? È il vento dico Ah ok È fresco Stavo a vedere che cose devi fare No, dico andando forte si prende l'aria Che cazzo che mi chiede Non ti sbilanciare Eh se no cadiamo, deficiente Che cazzo che mi chiede 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 Grazie a tutti. Il pullman. Che pullman? Che pullman? Non ho visto nessun pullman? Micchia, ma ce l'ho visto, eh? Non ho visto nessun pullman? No. Ma scusate, tu non avevi la visiera oscurata che non ci vedevi? Matteo. Cosa? Troia. Ma che sniacchera che c'è lì dentro? Che puttanone. Eh vabbè, è un puttanone, è una così. Ah vabbè, non è una ragazzina di facili costumi. Ah, vuoi spegnere o no? Perché? Come perché? Ok, oggi quello più folle è lui. Ascoltami, parliamone. Ma cosa? Che non ho fatto niente? Ho visto proprio pullman. Ma non hai il pullman? Devo fare il folle? No, grazie. Guardami negli occhi, devo fare il folle. E sono... Eh beh, è un bel pezzetto. Matteo, per favore. Minchia, mi sembra stato un fronteo che con il pullman io. Ma no. Ma non è vero. Ma quanto pesi, scusa? 70. Ah vabbè. Credo. Eh beh, ma sei alta, eh. Sì, vabbè, però. Anche un po' grassa. Eh? Eh? Sì, vabbè, lo sentirei nel video. Sì, vabbè, lo sentirei nel video. Non è un po' grassa. Sì, vabbè, lo sentirei nel video. Sì, vabbè, lo sentirei nel video. Grazie per la visione 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 Grazie per la visione